Così torniamo in studio per continuare a parlare di libri. Lo facciamo insieme a un nuovo uscito di una serie che l'anno scorso ha visto la luce in Italia ed ha avuto subito molto successo. Mi riferisco a una serie in particolare, quella Lux, vi ricordo questo, era il primo volume, si intitolava Obsidian, uscito da Giunti per Jennifer Armendroth, un'autrice americana. Questa serie ha una storia molto particolare, ci tengo a specificarla perché è una serie che è stata molto amata da noi italiani che leggiamo in inglese perché non era stata ancora tradotta in Italia ed è stata fatta una petizione da molti blog italiani per far sì che venisse pubblicata anche in Italia. Quindi c'è stata una raccolta di firme tramite internet ed è stata sottoposta alle case editrici per la pubblicazione. Ebbene la Giunti è stata molto carina, molto gentile e sicuramente ripagata giustamente di questa scelta perché ha pubblicato questa serie appunto in Italia. Il primo volume è uscito nella primavera scorsa, ve lo faccio rivedere, si intitola Obsidian, mentre a grande richiesta è stato pubblicato il seguito che uscirà il 29 di gennaio. Ma grazie a Giunti abbiamo la possibilità di farlo vedere subito perché ce l'hanno mandato con qualche giorno di anticipo, abbiamo avuto modo quindi di leggerlo in anteprima e quindi di parlarne in trasmissione. Ci tengo anche a farvi vedere quest'altro libro perché è il prequel di questa serie, uscito anche questo da non molto, uscito intorno alla fine dell'anno scorso. Quindi sono già tre i libri che potete visionare di questa serie. Che cos'ha di particolare questa serie? Allora, innanzitutto è una serie rivolta ai ragazzi, quindi si intende dai 16 anni in su e parla di extraterrestri. Le extraterrestri sono sulla Terra, sono a conoscenza anche i governativi di questa loro presenza. Loro si chiamano Lux, hanno una particolarità ovvero non sono bassi o mini verdi ma sono fatti di luce e possono prendere però le sembianze degli uomini. Sono sulla Terra, sono tra noi e sono pacifici. Hanno dei poteri di cui il governo pare non essere a conoscenza ma li tiene comunque sotto controllo pur potendo vivere liberamente. Il problema è che questi Lux hanno dei nemici che si chiamano Arum e sono delle sorti di personaggi senza poteri che per poterne avere devono succhiare quelli dei Lux, i quali chiaramente muoiono. Cosa succede? Sulla Terra si svolge quindi una sorta di battaglia segreta, ci sono i Lux sotto copertura tra gli umani e ci sono questi Arum che gli danno la caccia. Però i Lux sono protetti da una loro aura per cui non possono essere scoperti a meno che non espongano i loro poteri. Ed è questo che succede nel primo volume in Obsidian quando in una piccola cittadina una ragazza che si chiama Katie appena arrivata dopo la morte del padre insieme alla madre viene quasi investita. E per salvarla Demon Black che si rivela poi essere appartenente ai Lux deve sprigionare la propria energia e quindi è come se si aprisse un faro che fa vedere agli Arum che loro sono presenti. Questa è un po' la premessa, continuiamo a parlarne dopo però aver visto il book trailer del nuovo volume. Demon Black ultimamente è cambiato. Dolce, passionale, protettivo e addirittura geloso. Sembra davvero prendere sul serio la relazione con Katie che adesso è qualcosa di più di una bizzarra connessione aliena. E Katie? Ancora combattuta non può più negare di esserne perdutamente innamorata. Però non è facile godersi una storia d'amore quando il pericolo è inaguato, una minacciosa presenza che viene da un altro mondo e nasconde segreti impensabili. Katie è sconvolta per aver appreso cose che non poteva lontanamente immaginare e l'improvvisa apparizione di qualcuno creduto morto non rende certo la situazione più semplice. Determinate a scoprire la verità sulla scomparsa di Dawson e della sua ragazza, Katie e Damon si trovano ad affrontare una lotta di dimensioni cosmiche. Nessuno è ciò che sembra e i segreti nascosti per così tanto tempo reclameranno le loro vittime. A volte esistono nemici più forti dell'amore. Jennifer Armentrout vive a Martinsburg, West Virginia. Quando non scrive ama passare il suo tempo leggendo, lavorando all'aperto, guardando pessimi film sugli zombie, fingendo di scrivere mentre è fuori con il marito il suo Jack Russell Lockie. I suoi sogni sono quelli di diventare una scrittrice fin da quando nell'aula di algebra passava il tempo scrivendo brevi racconti, il che spiega i suoi pessimi voti in matematica. Jennifer scrive libri Young Adult, Paranormal, Science Fiction, Fantasy e Romance. Scrive anche romanzi Adult e New Adult con lo pseudonimo Jay Lynn. Quindi avete sentito, dopo questo primo incidente, Katie e Damon sono legati dal fatto che innanzitutto si è sprigionata questa luce che ha attirato gli Arum e lei ha una traccia di loro addosso. Quindi rischia, prima di tutto, di essere uccisa lei e comunque di far scoprire Damon e tutta la comunità dei Lux che vivono in questa piccola cittadina. Chiaramente tra di loro si instaura un rapporto che va oltre l'amicizia, ma sempre rigettato da entrambi. Nel secondo volume questo loro rapporto si intensifica, nonostante le varie difficoltà. Ma vengono a scoprire anche nuove cose. Come avete visto, anche dal trailer, Damon aveva un fratello, Dawson, gemello, che si era a sua volta innamorato di un'umana. E per questo sia lui che la sua fidanzata sono stati uccisi. O meglio, questo è quello che si è creduto fin tanto che andiamo a leggere Onyx, il nuovo volume. Quindi riusciremo a capire qualche cosa di più della storia d'amore tra i due ragazzi, scopriremo qualcosa di più del passato di Damon Black e dei Lux sulla Terra e scopriremo come mai i governativi sono così interessati ai Lux, ma anche agli umani che sono entrati in contatto con loro. Non vi voglio svelare altro della trama del libro perché è davvero molto carino, divertente. È raccontato dal punto di vista di Katie, che tra l'altro è una blogger, ha un suo blog su internet proprio dedicato ai libri. E quindi ogni tanto durante la narrazione fanno presente appunto anche questi aspetti particolari. E lei è una persona davvero molto divertente e senza pelli sulla lingua. Quindi anche la lettura sarà sicuramente svagante, per così dire, di intrattenimento. Quindi vi consiglio la lettura di tutta la serie Lux, al momento è composta da quattro volumi, due sono già stati pubblicati in Italia, più una breve storia, come abbiamo visto prima, ve la faccio rivedere, è Shadows, sempre di Jennifer Armentro, e la pubblicazione di Giunti. Onyx, che vedete in sovrimpressione, lo trovate in libreria dal 29 di gennaio. Ora facciamo una piccola pausa, ma ci ritroviamo tra pochissimo perché abbiamo ancora tanti libri di cui parlare.